Ciao a tutti e benvenuti, c'è anche un po' di Ulivo Pasquale in anticipo abbastanza netto, ma comunque non siamo del tutto e clamorosamente fuori tema. La parola ai tifosi oggi è un po' particolare, nel senso che è una parola che non c'è stata, perché di solito quando ci sono dei risultati, delle avversarie dirette in campionato un po' particolari, c'è subito la vostra reazione, invece dopo Spezia e Inter nessuno di voi mi ha scritto nulla di particolare, e questo mi ha colpito, significa che la concentrazione totale, come è giusto, come deve essere, è su Milan-Salernitana di lunedì sera. È chiaro che, insomma, qualcuno ha scritto che bisognerebbe fare una saga su Daniel Mardini, in effetti segna in Spezia Milan sotto gli occhi di suo papà che esulta, segna in Milan-Spezia con la maglia di Spezia, segna in Spezia-Inter con la maglia di Spezia, in effetti solo gol, solo gol, molto molto particolari, sentivo veloce inciso, sentivo ieri i commenti serali, radiofonici e l'Inter comunque ha dominato, beh sì, con lo Spezia onestamente, con tutto rispetto per lo Spezia, perché poi dovremmo essere in grado eventualmente di farlo anche noi, e ogni partita fa storia, però, insomma, normalmente ho visto la Roma, la Juventus, dominare a Spezia, poi il resto che conta, ma insomma, non sono cose che ci riguardano, pensiamo a Milan-Salernitana e pensiamo a scaricare OneFootball. Nella descrizione di questo video c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, app gratuita, app a vostra totale disposizione, casa del calcio streaming, tanti highlights, tante partite, l'app di OneFootball vi aspetta, l'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è, nella descrizione di questo video c'è il link, scaricate l'app di OneFootball. Spiace per Messias, spiace per Messias che adesso salterà Salernitana e Udinese, poi, ecco, da questo punto di vista sosta provvidenziale, poi che sia subito pronto per Napoli o meno lo vedremo, però, certamente, è un giocatore che rientra nell'economia delle scelte di Stefano Piori dell'ultimo periodo, per cui si era capito da come si era toccato il flessore a Londra che non sarebbe stata una cosa brevissima, e non sarà una cosa brevissima, ma insomma nemmeno lunghissima, per cui attendiamo il nostro giocatore. Questa mattina nell'editoriale su milanews.it ho un po' riflettuto sulle dichiarazioni di Mike Mignon a Londra, perché, vedete, Mike mi ha colpito per quell'urlo iniziale che ha squarciato la tensione spogliatoria nell'immediato pre-partita fra le due squadre, prendendosi il pre-partita, poi si è preso il post-partita con quella parata su Harry Kane, e poi nel post-partita è stato molto giusto, è stato molto giusto, ho forzato, ha detto. Lasciando intendere che la forzatura poi ha complicato le cose, cosa che a Milanello si è sempre pensata, ma che testimonia la grandezza del giocatore, la grandezza del giocatore che non si arrende all'infortunio, che vuole essere utile, che vuole fare, che vuole esserci. D'altronde il carisma che ha Mike in campo rischia di portare queste cose anche fuori dal campo, perché sei così intenso dentro te stesso che pensi di poter andare oltre l'infortunio, invece così non è stato. Poi questa sua ammissione candida, proprio nel momento in cui avrebbe potuto stare lì a prendersi gli applausi, avrebbe potuto stare lì a prendersi i complimenti, e invece racconta le cose, parla di sé, dice le cose come stanno, e toglie quel senso di chiacchiericcio che si era appoggiato sulle spalle, sulle vene, sui polsi di tanti professionisti che a Milanello lavorano sempre e solo per il bene del club. E quindi questo ha ripulito tutto Mike, ha ripulito tutto. Ha ripulito con il post dopo Milan-Atalanta le schifezze social e ha ripulito invece quello che più conta, la professionalità di tante 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 persone e quindi questo è a sua volta ulteriormente importante. Vi avevo chiesto ieri nel video pomeridiano di commentare un po' le dichiarazioni di Pirlo che non ci sta a passare per traditore. Onestamente io non credo che nell'ambiente rosso-nero, per quel che mi ricordo, per quel che posso tastare il polso all'ambiente rosso-nero, non mi ricordo sia mai stato definito traditore Andrea. Andrea, diciamo che soprattutto nel primo scudetto vinto dalla Juventus 2011-2012, ha avuto il suo peso perché era informato sulle fratture dentro il nostro ambiente e caricava la sua squadra. E' sport, è competizione anche quello. E quindi poi l'abbiamo visto molto carico, molto entusiasta la Juve. Evidentemente si sentiva molto più protagonista, molto più responsabilizzato che da noi, dove c'erano tanti altri campioni e quindi si è tolto le sue soddisfazioni, ma i conti sono chiusi. Però io sto ai vostri commenti, molti sono severi su questo punto, molti invece dicono abbiamo sbagliato a farlo andare via, è stato un errore di valutazione nostro, molti invece dicono quello che ha scritto nel libro non si può rimediare. E in effetti, insomma, diciamo che non era messo nelle migliori condizioni di spirito quando ha scritto il libro, però alla fine il libro è suo, la firma è sua e quindi va bene così. Io la ricordo bene la vicenda di Andrea Pirlo. La vicenda di Andrea Pirlo è una vicenda seria, lui stava, ricordo l'allarme di Maldini e Costa Curta nell'estate del 2006 quando sembrava che Pirlo dovesse andare a Real Madrid in piena calcioppoli e si mossero proprio i piani altissimi del nostro spogliatoio per sincerarsi che non fosse vero, per confermargli quanto fosse importante per il Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, ricordo l'importanza, ricordo che nel 2009 lui stava andando via, stava andando al Chelsea. Venne fermato da Leonardo, da Tassotti, anche lì, da punti importanti del nostro spogliatoio, poi lui evidentemente dice non vado, non guadagno quello che mi danno al Chelsea e ci fu un adeguamento importante di ingaggio che fece dire poi al presidente Berlusconi ricorderete al seggio elettorale quella frase, ho visto certi ingaggi. Quindi anche lì, da quel punto di vista lì, lui non ha mai fatto questioni di soldi, ma il Milan lo ha onorato, lo ha, credo, onorato al meglio. Io penso che Andrea Pirlo sia andato via dal Milan perché dopo dieci anni ci stava che andasse via dal Milan. Dopo dieci anni aveva bisogno evidentemente di... Penso anche che come struttura della Rosa del Milan non fosse in grado di puntellarlo e proteggerlo come, diciamo, il centrocampo fisico che avrebbe trovato nella Juventus di Conte pochi mesi dopo. Perché da noi serviva Van Bommel? Perché avevamo davanti molti creativi. Invece, avendo davanti molti cursori alla Juve, Pirlo ha preso le redini della Juve e della Juventus di Conte e non le ha più lasciate. Quindi dopo dieci anni il Milan aveva vinto lo scudetto 2010-2011 con il centrocampo titolare Gattuso, Van Bommel, Ambrosini con le aggiunte di Zedorf, le aggiunte di Flaminì e quindi era arrivato, diciamo, a consunzione da un certo punto di vista il suo rapporto con il Milan ma in maniera naturale, senza forzature da una parte o dall'altra. Poi per lui alla Juventus è scoccata una nuova scintilla per il tipo di Juventus che c'era all'epoca un centrocampo fisico e muscolare davanti a attaccanti molto mobili, cursori e quindi ha trovato il suo mare. Però a me è sembrata una vicenda molto, molto naturale. Certo, qualche tifoso rossonello si è sentito un po' dimenticato e poco amato ecco, dieci anni, però qui è una questione più esterna perché io ricordo che Pirlo da milanista meritava il pallone d'oro già nel 2006, aveva fatto un mondiale meraviglioso però la propaganda esterna aveva posto Pirlo per il pallone d'oro solo per l'europeo del 2012 quando era andato alla Juventus. Ecco, questa sottolineatura che veniva fatta dall'esterno dalle consociate del Pirlo del 2012 ha fatto sembrare a qualche tifoso del Milan che Pirlo fosse esploso soltanto quando era andato alla Juventus e questo ha creato un tema di gelosie all'interno della tifoseria rossonera ma senza che venisse considerato Pirlo traditore io credo questo di poterlo dire e confermare. Ragazzi, ci vediamo e ci sentiamo più tardi.